I clienti si accogliono dicendo buongiorno, quando è il giorno, buonasera, quando è sera, dire cosa gradisce. Caffè, vino, cocchi. Sono in tutto 13 i ragazzi con diverse abilità che hanno conseguito nelle scorse ore il diploma di barman. Faranno vedere cosa hanno appreso e gli verrà dato un diploma certificato dall'agenzia formativa in cui loro lo potranno utilizzare ovviamente nei vari curriculum, nelle varie aziende che insomma cercheranno personale. Io spero che ogni azienda abbia uno dei miei ragazzi che sono usciti dal corso. L'iniziativa in collaborazione con CESCOT, agenzia formativa di Confesercenti, è di un imprenditore, Andrea Manetti, che da sempre crede nella formazione di ragazzi speciali. Desideriamo un caffè macchiato. Dal primo corso voi avete Gregor a lavorare e ci raccontava che chi entra, i clienti che entrano, insomma assolutamente pretendono tra virgolette il caffè da lui, è diventato quasi una star. È diventato quasi una star, infatti con molta mia felicità, ma la cosa importante è che vengono trattati ovviamente uguali a noi, quindi quando una persona fa una richiesta, Gregor fammi un caffè, senza guardarlo in modo magari un po' diverso, lo tratta proprio veramente come tutti chi ha lavoro, per me è una cosa che la missione è riuscita. Per due mesi questi ragazzi si sono incontrati in questo bar che si trova a Terra Nuova Bracciolini. E adesso rimane la speranza di trovare un lavoro. Sarebbe bello anche lavorare nel mondo del caffè, dei cappuccini, delle spremute, i succhi di frutta, nei bar, anche di dare alcolici, anche di fare alcolici per dirvi. Le accompagnerò un bel sorriso per il cliente, per averlo fatto contento.